La difesa di Clara Vannini, la 58enne che lo scorso lunedì a Terra Nuova Bracciolini ha ucciso il marito Enzo Canacci, presenterà ricorso per ottenere gli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell'arresto e la misura della custodia cautelare in carcere, il legale della 58enne Antonino Giunta impugnerà infatti l'ordinanza del GIP Pier Giorgio Ponticelli. Secondo la difesa infatti la donna che attualmente si trova nel carcere fiorentino di Sollicciano va trasferita in una struttura idonea alle sue condizioni di salute per essere così curata. Lo scorso venerdì la 58enne accusata di omicidio volontario ha parlato di fronte al GIP nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto. La donna non ha chiarito però la dinamica dell'omicidio, ha infatti dichiarato di non ricordare nulla, solamente il tremolio delle sue mani, l'immagine del sangue e di aver ingerito medicinali per tentare il suicidio. Adesso dunque c'è attesa per i risultati definitivi dell'esame otoptico che potranno così chiarire i contorni della tragedia. La difesa della 58enne infine sta valutando l'ipotesi di richiedere una perizia psichiatrica in incidente probatorio.